In fondo io non sono quella pecorella che vedete lì, che segue il greggio, però voglio parlare e so che sono venuto per trasmettere un messaggio molto importante, molto importante perché la Fondazione Giuliani vuole rendersi disponibile a donare a questa organizzazione la possibilità di una ricerca sperimentale di cui abbiamo avuto proprio in questi giorni i più grandi risultati. La ricerca sperimentale che riguarda la possibilità di poter dare un grandissimo contributo alla trasmissione di valori come la vita degli uomini, a salvare quei valori dei bambini per esempio che muoiono sotto una catastrofe naturale e che sono il futuro per le nostre future generazioni. La mia domanda è questa, se è possibile poter introdurre a questa vostra iniziativa anche la possibilità che mette a disposizione la mia organizzazione per portare, per migliorare, per incrementare la possibilità di aiuto a migliorare, a salvare quei valori molto importanti sul nostro canale.